A Natale noi cristiani celebriamo l'evento stupendo del nostro Dio che si china verso l'uomo. Dio diventa uno di noi, si mette nei nostri panni, vuol condividere con noi tutte le nostre esperienze, le nostre gioie, le nostre speranze, ma anche le nostre lacrime, i nostri dolori, le nostre domande aperte. Auguro a tutti noi che possiamo celebrare questa festa unica davvero con il festeggiato, che Cristo sia il centro di questa festa. Auguri vivissimi, Buon Natale e portiamo tutto davanti al Signore. Buon Natale a tutti voi.